Capitolo 15 Allora si accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero, Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Perché non si lavano le mani quando prendono cibo? Ma egli rispose loro, E voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto, Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre e madre sia punito di morte. Voi invece dite, Se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisserti è offerta di Dio, egli non è più obbligato ad onorar suo padre o sua madre. E avete annullato la parola di Dio a cagion della vostra tradizione? Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse, Questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma in vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d'uomini. E chiamata se la moltitudine, disse loro, Ascoltate e intendete. Non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca. Ecco quel che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero, Sai tu che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro, Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata, sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Pietro allora apprese a dirgli, Spiegaci la parabola. E Gesù disse, Siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, Ed è quello che contamina l'uomo, Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulterii, Fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. E partitosi di là, Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone, Quando ecco una donna, cananea di quei luoghi, Venne fuori e si mise a gridare, Abbi pietà di me, signore figliuol di Davide, La mia figliuola è gravemente tormentata da un demonio, Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli, accostatisi, Lo pregavano dicendo, Licenziala, perché ci grida dietro. Ma egli rispose, Io non sono stato mandato che alle pecore perdute nella casa d'Israele. Ella però venne e si prostrò dinnanzi, Dicendo, Signore, aiutami. Ma egli rispose, Non è bene prendere il pan dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse, Dici bene, signore, Eppure anche i cagnolini mangiano dei minuzzoli che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse, O donna, Grande è la tua fede, Ti sia fatto come vuoi. E da quell'ora la sua figliuola fu guarita. Partitosi di là, Gesù venne presso al mar di Galilea, E salito sul monte, Si pose qui via a sedere, E gli si accostarono molte turbe, Che avevano secco degli zoppi, Degli storpi, E molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi, E Gesù li guarì. Talche la folla restò ammirata, A vedere che i muti parlavano, Che gli storpi erano guariti, Che gli zoppi camminavano, E che i ciechi vedevano, E ne dette gloria all'iddio d'Israele, E Gesù, Chiamati a sé i suoi discepoli, Disse, Io ho pietà di questa moltitudine, Poiché, Già da tre giorni sta con me, E non ha da mangiare, E non voglio rimandarli digiuni, Che talora non vengano meno per via. E i discepoli gli dissero, Donde potremo avere, In un luogo deserto, Tanti pani da saziare così gran folla? E Gesù chiese loro, Quanti pani avete? Ed essi risposero, Sette, E pochi pescetti. Allora, Egli ordinò alla folla, Di accomodarsi per terra, Poi, Prese i sette pani, Ed i pesci, E dopo aver rese grazie, Li spezzò, E diede ai discepoli, E i discepoli alle folle. E tutti mangiarono, E furono saziati, Ed i pezzi avanzati, Si levarono sette panieri pieni. Or quelli che avevano mangiato, Erano quattromila persone, Senza contare le donne, E i fanciulli. E licenziate le turbe, Gesù entrò nella barca, E venne al paese di Magadan.